Ciao a tutti ragazzi, oggi un nuovo video su un prodotto particolare, stiamo parlando di un access point extender wifi, spero di dirlo bene, si tratta di un modello di fascia medio alta, allora è un Nighthawk X6S EX8000 della Netgear, un extender che ci permette di utilizzarlo sia come ripetitore wifi che come access point, a mio avviso molto interessante per chi ha problemi di connessione internet in grandi spazi. In grandi spazi perché comunque vedremo qualche piccolo test che ho effettuato, vi ricordo che non mi ritengo un professionista e infatti in questo video andiamo a vedere come configurarlo perché è veramente semplice configurare questo ripetitore, ha diverse funzioni interessanti, si può impostare tramite la solita schermata di un normale router e quant'altro, vedremo tutti i vari passaggi. Allora mi scuso un attimo per la configurazione, magari ho fatto qualche gaffa, però come ho fatto la configurazione precedente di un altro router ho pensato che comunque se ci fossero dei problemi che potete avere anche voi come magari posso avere io durante una configurazione, anche se in questo caso non ho avuto grossi problemi, potrete vedere anche eventuali miei errori e magari incappare nello stesso errore risolvendo e trovando la soluzione magari come ho fatto io. Detto questo, allora vi lascio alla configurazione e vedremo che è veramente facile tramite il tastino WPS. Andiamo a vedere come entrare nelle configurazioni dell'access point, andiamo a vedere qualche piccolo test. Allora vi anticipo già come ho fatto il test. Ho messo il ripetitore vicino al router wifi e ho provato prima e dopo il range di quanto può arrivare il segnale solo del router wifi e successivamente con il ripetitore abilitato e vedere la distanza raggiunta appunto con il ripetitore attivo. Altre prove che ho effettuato, ho fatto diversi speed test anche a distanza di quasi tre piani, ho alla fine utilizzato questo dispositivo come access point, lo potete vedere qua dietro, non so se riuscite a vedere. Allora in poche parole utilizzo l'access point, quindi anche questo è un altro test, vi faccio lo zoom. Allora utilizzo l'access point qui nell'ufficio, in poche parole è collegato con il router wifi nell'altra stanza e attacco il cavo LAN al computer fisso. Infatti ho fatto anche uno speed test di quanto riusciamo ad andare veloci con il cavo LAN che non riesco a far arrivare in questa stanza e grazie a questo dispositivo riusciamo a raggiungere la connessione internet con il cavo LAN. Sicuramente differente rispetto alla chiavetta USB Wi-Fi che ho utilizzato fino adesso. Detto questo vi lascio con tutte le varie prove e noi ci vediamo con le conclusioni finali. Ok ragazzi, partiamo con l'installazione dell'extender e vediamo cosa fare per configurarlo. Allora, vediamo se il manuale delle istruzioni è così semplice come ci viene detto. Allora, il manuale delle istruzioni che nel modello che ho io è solo in inglese, almeno nell'italiano non c'era. Allora, quello che ci dicono di fare è collegare alla corrente il nostro extender, lo colleghiamo e cliccare il tasto Power. Ok, qua dietro sul tasto Power abbiamo le quattro uscite Ethernet e abbiamo anche il pulsante WPS che vedremo a seguire. Possiamo sincronizzare il nostro extender con il nostro router, sempre un Netgear, tramite il pulsante WPS oppure anche tramite il cavo LAN. In questo caso utilizzerò il tasto WPS perché magari molti di voi utilizzeranno questa modalità perché non terranno l'extender molto probabilmente vicino al router, ma lo sposteranno nel punto più vicino in cui l'extender ancora becca il segnale del router. Ok, andiamola ad accendere, Power, si è acceso il LED verde e andiamo a vedere piano piano che si accendono tutti i LED davanti. Guardate, allora qui abbiamo diversi LED, qua la potenza del segnale Wi-Fi, la velocità della connessione, segnale 5 GHz, segnale 2.4 GHz e poi qua abbiamo altre conciline. Guardiamo un attimo anche i vari LED, comunque vi ricordo che nel manuale delle istituzioni c'è segnato tutto. Andiamo a vedere comunque uno ad uno perché magari durante l'installazione non avendo la leggenda sotto ho fatto qualche errore e quindi è bene sapere cosa stanno a indicare i vari LED. Allora, partiamo dal primo. Allora, il primo è il LED di stato di collegamento. Bianco senza intermittenza, segnale ottimo. Giallo senza intermittenza, segnale buono. Rosso senza intermittenza, segnale scarso, spento nessun segnale. Bianco l'appeggiante, l'extender ripristina le sue impostazioni predefinite. E questa è la prima icona. Seconda icona sta a indicare su quale connessione siamo collegati. O 5 GHz e 2.4 GHz. In pratica è il LED di stato che ci indica se bianco senza intermittenza, l'extender utilizza la banda a 5 GHz spento, l'extender utilizza la banda a 2.4 GHz, bianco l'appeggiante, l'extender sta ripristinando le sue impostazioni predefinite. Qui abbiamo le due icone a seguire, ci indicano se la 5 GHz è operativa e se la 2.4 GHz è operativa. Molto semplice. Questo LED spento è il LED di collegamento del client e ci indica se un dispositivo Wi-Fi mobile o computer è collegato. In questo momento non è collegato all'extender nessun dispositivo Wi-Fi perché probabilmente stanno sfruttando il router, visto che siamo abbastanza vicini. Questo LED ci permette di vedere se abbiamo collegato un dispositivo USB. In questo caso nessun dispositivo USB è collegato e quindi è spento. Penultimo LED è il LED WPS. In questo caso abbiamo configurato come abbiamo visto nella configurazione il WPS e siamo collegati al router Wi-Fi tramite il pulsantino WPS. Ultimo LED, il LED Ethernet è acceso perché abbiamo collegato dietro una delle quattro porte Ethernet la connessione Internet del PC fisso e questi sono i vari LED. Perfetto, comunque c'è tutto scritto nel manuale delle istruzioni. Allora, una volta che si accende aspettiamo un attimo, dicono due minuti, c'è scritto sul manuale delle istruzioni e poi dopo dovremo cliccare prima sul tasto WPS dietro l'extender e poi dopo dovremo cliccare il tasto WPS sul router. In questo caso andremo a sincronizzare i due dispositivi. Allora, intanto vi do qualche altra informazione. Una volta sincronizzati il LED, questo qui bianco, dovrà essere fisso. Il nome delle Wi-Fi si chiameranno allo stesso modo. Vi ricordo la guida sulle Netgear, ho separato la 2.4 GHz rinominandole e quindi ho due connessioni Wi-Fi, 2.4 e 5 GHz. Vi condivido il tutorial nella descrizione del video. Allora, vediamo, eccoci qua, ci siamo, ecco, abbiamo i LED fissi e quindi siamo pronti per attivare il tasto WPS. Allora, qui nel manuale delle istruzioni lo sto leggendo, dicevano accenderlo, ok, il Power Green, e l'abbiamo, ok. Ok, allora, teniamo premuto il WPS, aspettiamo due minuti e premiamo anche il WPS del router. Allora, ok. Allora, siamo pronti. Clicchiamo qua dietro il tasto WPS, lo clicchiamo, vediamo davanti. Allora, ok, sta bipando, scusate, sta lampeggiando l'icona del WPS. Allora, qua c'è scritto che due minuti premiamo anche il pulsante del router. Ok, quando l'extender sarà connesso, il LED rimarrà fisso. Ok, andiamo a cliccare il tasto WPS sul nostro router, dovreste averlo anche voi. Allora, lo clicchiamo, vediamo cosa succede. Tac, lo abbiamo cliccato, vediamo se il LED bianco rimane fisso. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, sta lampeggiando in modo diverso. Forse ci siamo. Allora, fino a due minuti ci dovremo mettere per effettuare la sincronizzazione. Qua sul router ha finito di lampeggiare. Ok, qua è rimasta fissa. Ecco qua, non questa lucina qui, ma questa deve rimanere fissa. Quindi, in questo momento abbiamo effettuato la sincronizzazione dell'extender e del router. Ecco, vi ricordo che sto facendo questo tutorial insieme a voi perché alcune cose, secondo me, si vedono meglio sul momento. Quindi, scusate se qualche terminologia oppure mi sto incarbuliando su alcune cose. E in questo momento abbiamo effettuato la sincronizzazione. Allora, il test che andrò a fare sarà in casa e anche in ufficio. Me lo porterò anche in ufficio. Allora, io ho già visto che con le sole antenne Wi-Fi del router non arrivo nemmeno al piano terra. Quindi, la prova che andrò a fare una volta che appunto abbiamo sincronizzato i due dispositivi è scendere per le scale e vedere che se con il nuovo extender riesco ad avere un segnale più forte. Poi andrò a fare anche altre prove sulla stabilità della connessione Wi-Fi perché con la tecnologia di questo extender non dovremo perdere la velocità internet anche se appunto utilizziamo un extender, ok? Abbiamo tutti i LED fissi, la 5 GHz, la 2.4 GHz, abbiamo la potenza massima e quindi in questo momento possiamo sfruttare il nostro extender, ok? Allora, molto probabilmente adesso, siccome sul cellulare non avremo una distinzione fra extender e connessione internet del nostro router normale quindi in questo caso non riusciremo a vedere bene nello specifico se siamo connessi all'extender oppure alla connessione del Wi-Fi però una prima prova che potreste fare è capire quanto riuscite a beccare in questo momento con il vostro router e vedere se con l'extender appunto riuscite ad arrivare più lontano. Allora, questa è la prima configurazione e mi sembra che è venuta molto bene. La prima cosa che ho riscontrato è che avendo un iPhone non è disponibile l'applicazione Netgear, salvo che mentre sto registrando il video la stanno pubblicando sull'App Store però l'applicazione per questo modello è presente solo per Android nel momento in cui sto registrando il video. Quindi adesso, visto che la configurazione è andata a buon fine ed è stata veramente facile andremo a fare tutte le nostre prove e poi vi riporterò alcuni test che ho potuto effettuare con questo extender. Detto questo, la configurazione è finita e noi andiamo a vedere le nostre prove. Dopo aver fatto un po' di test usciamo di casa allora ho già testato fino a quanto riusciamo a beccare la connessione Wi-Fi con il router normale scendiamo di casa perché vedremo lo stacco allora connessione Wi-Fi attiva allora con il router normale adesso scusate il test però secondo me è molto valido allora con la connessione normale di solito arriviamo fino quasi piano terra fra un po' vediamo se si sta scollegando allora ad un certo punto ho visto facendo diverse volte le scale che si sconnetterà segno che non prende più il router per poi ricollegarsi all'extender forse è già successo però vi assicuro che solo router l'ho già provato diverse volte arrivo fino a questo punto eccolo qua infatti e con l'extender riusciamo ad arrivare fino fuori ok apriamo la porta allora usciamo qua allora usciamo allora già qui è la differenza allora vediamo sono ancora collegato allora direi che riusciamo a fare qualcosa come secondo me 100 metri in più allora vediamo ancora prendiamo ok direi che è notevole allora ancora stiamo prendendo prendendo ne stiamo facendo di strada allora ancora becca il segnale incredibile guardate non ci posso credere siamo quasi abbiamo sceso quasi tre piani e ancora sta prendendo vediamo poco ma stiamo ancora prendendo vediamo se riesco ancora ad arrivare di più ancora ce l'abbiamo incredibile non ci posso credere ancora ecco si è spento il cellulare face id ok abbiamo perso il segnale direi discreta distanza abbiamo ripreso il segnale ok ribeccato allora direi ecco qua l'abbiamo ribeccato allora direi che come primo test la distanza è notevole rispetto al router normale direi che abbiamo fatto quasi più di un piano più altri 100 metri e direi che l'extender wifi sicuramente è più potente del router wifi questo il primo test ok ragazzi spero che abbiate visto tutto il primo test allora il primo test mi ha permesso di capire che con il router wifi normale e lo sapevo già ovviamente riusciamo ad arrivare poco prima dell'uscita di casa mentre con l'extender una volta attivato siamo riusciti ad arrivare ben oltre l'uscita di casa addirittura siamo riusciti ad arrivare a mio avviso secondo me saranno altri 50-100 metri e comunque il segnale prendeva ancora sicuramente è un risultato molto buono anche perché comunque considerando che dopo l'uscita c'è la curva verso destra e quindi il segnale non è più dritto per dritto rispetto al condominio mentre quando usciamo di casa il segnale è meno diretto altre prove che ho effettuato ho fatto diversi speed test anche a distanza di quasi tre piani ho alla fine utilizzato questo dispositivo come access point lo potete vedere qua dietro non so se riuscite a vedere allora in poche parole utilizzo l'access point quindi anche questo è un altro test poi faccio lo zoom allora utilizzo l'access point qui nell'ufficio in poche parole è collegato con il router wifi nell'altra stanza e attacco il cavo LAN al computer fisso infatti ho fatto anche uno speed test di quanto riusciamo ad andare veloci con il cavo LAN che non riesco a far arrivare in questa stanza e grazie a questo dispositivo riusciamo a raggiungere la connessione internet con il cavo LAN sicuramente differente rispetto alla chiavetta USB wifi che ho utilizzato fino adesso e grazie a tutti a a a a a ok ragazzi andiamo a vedere anche come entrare nelle impostazioni e cosa possiamo configurare una cosa che ho visto è su qualche recensione che non si poteva impostare la connessione guest ovvero una connessione da dare ai nostri ospiti invece ho visto che nelle impostazioni è possibile fare anche questa cosa vi anticipo già che potrete installare un'applicazione per android per monitorare i vari dati e il traffico internet purtroppo non ho un android e per iphone non è disponibile al momento questa applicazione detto questo vi ricordo che potete trovare il manuale delle istruzioni anche su internet in pdf come ho fatto io e trovare tutti i vari passaggi e curiosità che vi sto facendo vedere detto questo in base al vostro sistema operativo nel mio caso windows abbiamo o l'indirizzo ip oppure la url che vi condivido tutto nella descrizione del video in poche parole andando a digitare nel browser my wifi ext in poche parole che sta per external wifi in pratica entreremo direttamente nelle impostazioni ovviamente dovrete tenere attivo il vostro extender e digitando questa url nella barra degli indirizzi entreremo nelle impostazioni vi condivido anche il link con tutti i vari indirizzi per mac windows e dispositivi android e quant'altro perché cambiano leggermente e vi faccio vedere un po tutte le varie schermate che abbiamo una volta che abbiamo cliccato il link ci siamo registrati e poi siamo pronti per configurare la 2.4 gigahertz ad esempio possiamo configurare la 5 gigahertz in pratica possiamo decidere se tenere attiva solo una entrambe oppure possiamo cambiare il nome della nostra wifi potremo quindi decidere se utilizzare solo la 2.4 gigahertz solo la 5 gigahertz entrambi potremo andare a impostare come vi ho anticipato la connessione guest ovvero per gli ospiti e dopo se la vostra linea ad esempio si chiama infostrada 12345 verrà aggiunto un guest e quindi ai vostri ospiti potrete dire guardate la connessione guest è per voi e quindi potrete dividere il traffico dei vostri dispositivi rispetto a quella degli ospiti abbiamo anche altre impostazioni che ci permettono anche di aggiornare il firmware ad esempio infatti appena sono entrato all'interno del pannello di controllo ho dovuto aggiornare il firmware è una cosa che vi consiglio visto che comunque è un aggiornamento gratuito e poi e poi in base alle vostre esigenze sappiate che comunque all'interno di questo pannello di controllo possiamo appunto monitorare il traffico e fare determinate operazioni non ho trovato forse o non l'ho visto o quant'altro mi sarebbe stato utile magari impostare la potenza del segnale wifi perché forse è troppo potente per una casa non troppo grande infatti secondo me il consiglio è per chi ha problemi proprio di portare il segnale in case abbastanza grandi o comunque vuole arrivare magari in giardino in un ufficio abbastanza grande per una casa probabilmente piccola non avrete neanche bisogno di installare un extender però se invece volete utilizzarlo anche come access point come ho fatto io per collegare il cavo LAN al computer fisso comunque un computer che richiede una connessione più veloce potrebbe essere un'altra alternativa detto questo arriviamo un attimo alle conclusioni finali anche se avrete capito che il dispositivo funziona molto bene mi sta piacendo allora secondo me è una cosa da considerare io adesso non ho provato tanti extender e tanti access point e quant'altro però con questo mi sono trovato molto bene perché è facile da installare e funziona appunto bene nelle varie modalità da extender e da access point ha le sue configurazioni che ci permettono comunque di gestire un po' il dispositivo probabilmente il prezzo è una cosa da valutare perché è un extender che costa sui 160-170 euro in questo momento e quindi dovrete valutare se magari con altri extender oppure nella vostra casa nel vostro edificio in cui volete installarlo è necessario avere un dispositivo più potente e più performante detto questo spero che quello che vi ho fatto vedere in questo video vi sia piaciuto vi sia utile in caso abbiate dei problemi di range del vostro router wifi e noi ci vediamo col prossimo video ciao